Come si tratta di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività? Solitamente i festival fungono da traino culturale per il territorio. In Italia purtroppo non fanno vita facile, mentre il Talos riesce, nonostante tante difficoltà italiane, a raggiungere una maturità tale che porta sul territorio l'arte musicale dei giorni d'oggi. Mi aspetto dal Talos un lavoro sereno e duraturo.